Una situazione così grave al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo non si era mai verificata. Nella giornata di venerdì, tra ferie, malattie e permessi in reparto, sono mancati ben 17 infermieri su 57 previsti. A denunciarlo è il sindacato Nursind, in una nota molto dura dopo settimane dalla proclamazione dello stato di agitazione anche nella ASL Toscana sud-est, quindi per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Una contrazione così importante, scrive il sindacato, ha rischiato di mettere in difficoltà la stessa operatività del reparto e ha comportato il fatto che la programmazione del lavoro infermieristico avverrà giorno per giorno senza il consueto anticipo. Di queste ore una nota anche della funzione pubblica CGL dell'area vasta toscana sud-est, che esprime forte preoccupazione sullo stato dei servizi sanitari, sullo stress accumulato dal personale e sulla tenuta complessiva del sistema. In particolare, precisa il sindacato, sono quattro i temi fondamentali. Il piano di assunzioni ordinario e straordinario, il clima interno e l'ottimizzazione dei tempi di vita e lavoro, la sicurezza e i riconoscimenti professionali ed economici. È stato messo tutto nero su bianco in una lettera inviata ai vertici dell'ASL, direttore generale Antonio Durzo, e i vari direttori amministrativi e sanitari. La richiesta è quella di intervenire immediatamente con azioni concrete per dare risposta a questi disagi.